Buongiorno. Per il raggiungimento dell'orgasmo la componente mentale ha un ruolo molto importante. Durante la malattia la sensazione di controllo in genere aumenta e lasciarsi andare è più difficile anche a causa della paura di non piacere come prima dell'intervento chirurgico. Il piacere quindi potrebbe essere più difficile da raggiungere ma perdere il controllo della situazione aiuta a concentrarci sul nostro piacere. Troviamo quindi dei piccoli espedienti che ci aiutino a creare un momento giocoso con il nostro partner. Questo potrà aiutarci a creare una dimensione più rilassante e meno prestazionale. Ci sono molte e diverse soluzioni a seconda di ciò che più ci piace e che sappiamo piacere all'altro. Ricordiamoci che siamo tutte diversi, i nostri corpi sono tutti diversi e i nostri sensi più o meno pronunciati. Questo significa che non c'è una regola univoca che vale per tutte. Ognuna di noi deve scegliere in base alle proprie inclinazioni. Può essere un piumino che ci solletica delicatamente o un flogger di metallo lasciato scivolere freddo sulla schiena. Ideale per chi apprezza le carezze, il tocco in ogni parte del corpo. Il flogger, a differenza del piumino, ha una consistenza più rigida e pesante che può essere però usata giocando sulla sensazione del caldo e del freddo. Senza timore di utilizzare il nostro corpo possiamo fare leva anche su quelle parti che guardandole, osservandoci allo specchio, troviamo più seducenti. Può essere una mano ben curata, una bocca carnosa o uno sguardo profondo ammagliante. Possiamo evidenziarle nel momento dell'amore creandogli intorno un racconto. Una mascherina di pizzo per valorizzare gli occhi, un gloss dagli effetti particolarmente sorprendenti ai baci con effetti caldo, freddo, dolce, piccante insieme o delle lunghe maniche seducenti che all'occorrenza si possono trasformare in un ulteriore occasione di gioco. Possono diventare una sensuale manetta o una benda da utilizzare su di noi, sul nostro partner. Felice amore a tutte! Grazie a tutti!